In pochi anni una generazione di attivisti si è mobilitata per fare inserire il clima in cima all'agenda politica globale. A loro si oppongono diversi gruppi mossi da interessi economici o politici. Una cosa è certa, le crisi globali non spariranno se le ignoriamo. Ogni giorno milioni di persone si battono per l'ambiente. Sono attivisti, volontari, scienziati o semplici cittadini. Siamo andati a conoscerli in occasione della campagna europea For Our Planet. Per girare questo episodio siamo stati in Catalogna. Qui il tempo è bello e anche se la gente sembra divertirsi, molti sono preoccupati per gli effetti visibili del cambiamento climatico. La Catalogna attraversa un episodio di sécheresse precoce. Le riservi di ricche sono tre basi e le restriccioni d'eau hanno stato messo in plazio in vero. Inverno e guarda lo che sta il clima. Voy in sudadera. Io sono una persona friolera e ora no. Io ricordo di un bambino che notava moltissimo le 4 stazioni. Non era un verano di 6 mesi. Chissà pensano, bueno, che possiamo cambiare? E non ci sono molti anni. Ci preoccupiamo giustamente per i più giovani. Ma cosa ne pensano loro? Siamo nel posto giusto per incontrarli. Abbiamo incontrato con Francisco. È l'un dei più grandi attivisti per il clima del mondo. È Colombia. Come sei? Molto gusto, Francisco. Molto gusto, anche. Molto gusto. Francisco Vera Manzanares ha solo 14 anni ed è impegnato nell'attivismo fin da bambino. È un ambasciatore di buona volontà dell'Unione Europea in Colombia, dove ha un grande seguito. È il fondatore di Guardianes por la Vida, un movimento di bambini che lotta contro il cambiamento climatico. Molta gente dice che i bambini non devono parlare del cambiamento climatico perché non sono experti. Però io credo che i più experti e i più che possono parlare del cambiamento climatico sono i bambini. E questo si deve a che sono i più che lo fanno. De hecho, i bambini sono una pieza essenziale in questo papel di attuare per il planeto. È anche per loro che scriviste il tuo libro? Sì, certo. È una questione non solo di vivere, ma di entenderlo. Questo sta passando, però come passa? Explicò concepti desde i più basi come, per esempio, che è il effetto invernadero. Si entendiamo il problema, possiamo dare soluzioni più efficaci e migliori al problema, precisamente. Molti cittadini stanno criticando la ecologia. Sì, c'è molto populismo. Ora c'è una nuova ola, diciamo, di extremi, di ultras, che iniziano a accusare dei ecologisti di avere una tendenza politica. Però io diciamo, viviamo sulla stessa terra. Osea, questa terra io la comparto contigo, contigo, precisamente, e con tutti gli che vedano questo. Questo non è una questione politica, è una questione di humanità. È un'optimista per il futuroo? Io sono un'optimista per il futuroo, la verità. La situazione è molto difficile. Osea, c'è una frase che dice che il sol non si può tapare con un dedo, perché non lo possiamo fare così. E cada uno lo ve desde il suo luogo. Io lo veo come un joven, precisamente, però come un joven che tiene esperanza, basicamente. Eco esperanza. Abbiamo incontrato anche un'altra attivista, Olivia, un'ambasciatrice del patto europeo per il clima di appena 16 anni. Ne aveva solo 12 quando ha inventato il jelly cleaner, uno strumento per raccogliere le microplastiche nel mare. Oliva è attiva sui social, parla nelle scuole e alle conferenze per difendere gli ecosistemi marini. Anche lei, come Francisco, ritiene che sia normale avere paura, ma che non bisogna arrendersi. Allora, la prima generazione ha lasciato un mondo devastato a noi, e hanno lasciato la responsabilità di prendere il cuore. Ma io sempre dicono che la mia generazione è la generazione con la capacità di cambiare. Alla noi possiamo essere attivisti. Non bisogna fare una grande actione. La prima generazione è stata in un'altra attività. La prima generazione è stata in un'altra attività. E' quello che ti parla di in un libro, certo? Io parla di decisioni tutti noi possiamo fare per aiutare il planeto. Perché se una persona fa e le dice questo a loro famiglie, a loro amici, a loro amici, a loro creare una conoscenza che è davvero realizzata. E questa è la risposta che dico alle nuove persone che dicono che il cambiamento climatico non va con me. Gli governi e altri hanno bisogno di farlo. E io dico loro, no, sì è cosa tu. Sì, è up to you di cambiare il mondo. Grandi cambiamenti attraverso piccoli gesti. Questo è anche il messaggio della campagna europea For Our Planet, giunta alla seconda edizione. In tutto il mondo sempre più persone agiscono per l'ambiente. Bruxelles sostiene le iniziative di Citizen Science attraverso il programma LIFE. Ci sono iniziative in molte aree e regioni d'Europa, compresa la Catalogna. Siamo stati ad uno di questi eventi. Dopo aver fissato il nostro appuntamento, ci dirigiamo a nord verso la Costa Brava. Per l'occasione ha anche cominciato a piovere. Il tempo non ha spaventato i volontari del progetto europeo LIFE Mad Cliffs. Grazie ad un'applicazione, stanno aiutando gli scienziati a monitorare i cambiamenti della flora. Il progetto busca mantenere il litorale propi che abbiamo qui al nostro paese. La idea è preservare il che già abbiamo e evitare che le planti di fuori lo degradino o lo transformino in mani che noi non è quello che abbiamo di avere. I volontari hanno raccolto migliaia di foto geotagate da tutta la Costa Brava. Foto di piante come queste, che avrete probabilmente visto molte volte in vacanza. L'escursione di oggi è dedicata ai licheni, la cui esistenza è messa in pericolo dalle piante tropicali. I membri del progetto hanno stilato un elenco di specie pericolose per avvisare il pubblico e stanno collaborando con i vivai. E' arrivato il momento di salutare volontari e attivisti. E voi cosa avete fatto per l'ambiente? Me lo racconterete nella prossima puntata di Road to Green. Grazie. 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 Grazie.